Allora amici siamo tornati in diretta in tutto il mondo grazie a Vidmotion al quale va il nostro applauso grazie per la diretta streaming, grazie a Davide e Gianluca infaticabili ragazzi che fanno parte di questo grande grande staff ma doveroso ringraziamento e dunque saluto ai nostri partner commerciali della serata perciò sarebbe bello se riuscissimo a fare una sorta di hola per ogni brand che citerò grazie a Red Bull Energy Drink bravi grazie a Zoppis Wine Menage e la DJ thank you so much eBar.t grazie Tea House Artistic Concept thank you Pepsi grazie Fratelli Guancia grazie Fine School Premium Cocktail Mixes grazie a Real Cocktail Ingredients grazie ancora Balls Double Touch aspetta adesso devi sfigarmi perché mi... grazie Jack Teniers e grazie Russian Standard Vodka ma soprattutto fammelo dire grazie a voi pubblico dell'Ulapalusa e allora siamo al secondo competitor che a questo punto e beh è anche lui uno dei metterani signori secondo competitor in gara alla gran finale della seconda tappa dell'Ulapalusa Flair Championship 2017 Davide Fallacara e allora Davide anche per te 3, 2, 1 show grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Davide Fallacara. Let's go DJ.